Siamo molto felici di questa nuova offerta che caratterizzerà l'estate del 2022, una seconda tappa dell'altromanna, stavolta incentrata sul tema dei bambini, ma sul tema anche di venere, e rappresentata da statue policrome, con grandi segni, reste di colore, che danno l'idea di come il mondo antico amasse non il candore, ma proprio la varietà dei colori appunto accesi. E poi la seconda sala, quella dedicata ai bronzi, con il celebre Tripode d'Ercolano e con la vetrina dedicata ai dinasti ellenistici, su cui campeggia ovviamente la statua di Alessandro Magna. Veramente una grande gioia perché abbiamo liberato da depositi degli oggetti straordinari.